Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Lancia Stratos HF, la regina dei rally Livreal Italia, vincitrice del rally di Monte Carlo del 1976 con il pilota Sandro Munari, soprannominato il Drago, e il suo copilota navigatore Silvio Maiga, uscita numero 88 delle 110 previste per il completamento di questo splendido modello edizione Centauria in scala 1 a 8. All'interno troviamo la sezione inferiore destra della carrozzeria e le serrature che in realtà è questa, la finta serratura, lo sgancio e aggancio rapido. Allora, prima di tutto saluto tutti voi i miei iscritti e vi ringrazio sempre con tutto il cuore per le visualizzazioni. Alle persone non iscritte, sempre che ne abbiano piacere, ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se guardate la playlist potrete trovare altri modelli e non soltanto di auto e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello mi contatti privatamente grazie. Qui vediamo intanto non solo il coprimotore di una Lanciastratos ma anche un Fiat 131 bellissimo Abarth. Una cosa a Centauria, anzi due. La prima dovete sicuramente per rispetto a noi che paghiamo e che poi abbiamo anche un raccoglitore per proteggere e andare a mettere i nostri fascicoli all'interno, dovete secondo me, in maniera proprio oggettiva, non secondo me, fare delle confezioni più sicure perché quelle che fate, quelle che ci arrivano a casa, quelli che ci arrivano a casa come fascicoli, sono semi distrutti e sinceramente è un peccato visto anche il lavoro editoriale che c'è dietro. Primo. Secondo, il telecomando o meglio il radiocomando che è anonimo in quanto è nero sarebbe un'idea molto carina secondo me andare a mettere una grafica adesiva sopra che potete farcelo avere anche in corso d'opera sia per questa macchina che per altre che ovviamente producete voi come modelli e quindi mettere, non so, la grafica della Lancia Stratos o proprio la macchina, una cosa sicuramente colorata che identificherebbe anche il radiocomando una volta che uno lo mette nella vetrina invece di vedere un pezzo nero, potrebbe essere un'idea. Allora all'interno oltre che a questo pezzo troviamo anche il paraspruzzi. Eccolo qui. Ne abbiamo già montato uno sinistro e questo è il destro sempre in gomma, molto carino. Cinque serie di viti. Questo è il pezzo in metallo. Ecco qui. Due da avvitare nella plastica MPNP, non le confondete, vi ho già spiegato nel video di montaggio della sezione inferiore sinistra, cosa può accadere se sbagliate, se li confondete, mi raccomando. Poi troviamo la serratura, eccola qui, la stessa che abbiamo montato nel lato sinistro e poi troviamo i due coprimozzi centrali. Io vi sconsiglio assolutamente di metterli, poi magari sono anche facili da rimuovere, allora va bene, però ve lo sconsiglio perché se dovete andare a intervenire, e vi garantisco che probabilmente dovrete farlo su, vi faccio vedere poi le viti principali del mozzo della ruota, dovrete andare a svitare la ruota, quindi se questi sono facili da togliere bene, altrimenti rischiate di danneggiarli, anche se vi basta la punta di uno spillo, di uno stuzzicadenti, lo mettete qui, non tra il metallo e la plastica, ma qui e fate leva di legno oppure, parlando dello stuzzicadenti, oppure di uno spillo, di un ago. Però io vi sconsiglio di metterli, io li metterò alla fine, prima di mettere via il modello. Poi abbiamo queste che sono le DM che ci vengono date in più per la ruota, ma le abbiamo già montate, se volete le sostituite altrimenti non vi servono. Le SM e le AM, avvitare nel metallo. Non serve usare lubrificante perché il metallo dove andiamo a crearci il filetto, o comunque ad avvitare la vite, è tenero, quindi non mettete il lubrificante. Questa, la AM è quella che poi terrà questa parte qui e quattro viti SM sono necessarie dove due in questi fori liberi sono quelle che terranno il pezzo in sicurezza e queste altre due sono quelle che tengono il paraspruzzo. Ok? Così magari è meglio. Eccolo qua. Bene, vado prima a montarmi la finta serratura, quindi prendo una vite NP, P. Così. Eccolo qua. fate attenzione quando fate questa operazione che apparentemente è molto semplice ma se fate l'errore di non inserire bene il pezzo all'interno la vite continuerà a filettare ma vi rompe il collarino di questo pezzo perché non l'avete centrato bene quindi attenzione quando siete già arrivati più o meno a questa altezza controllate che il pezzo non esca e quindi lo avrete preso bene ecco non serve stringere forte una volta che arrivate in battuta fermatevi qui come potete vedere ho già messo la vite ed è la mp mi vado subito quindi a montare la serratura finta che poi non so perché la chiamano serratura e uno sgancio rapido faccio così metto la vita all'interno e avvicino il pezzo ecco qua non mi piace una cosa devo vedere una cosa scusatemi ok non mi piaceva questo pezzo di plastica perché era piegato ho semplicemente limato appena appena un po' dietro ma mi raccomando se vi capiterà di dover fare un'operazione del genere dovete appena appena andare a levare una piccola sbavatura se c'è come era il mio pezzo qui perché se consumate troppo la plastica la vite poi risulterà lunga e questo pezzo vi balla attenzione adesso devo andare a montare il pezzo sul modello quindi allora devo lavorare sulla ruota anteriore destra faccio così fate attenzione allo specchietto non ci vuole niente a danneggiarlo fate molta attenzione non appoggiate lo mai sui fianchi e quando lo mettete sotto sopra attenzione a non rovinare questo la vernice e soprattutto il vetro non mettete le dita mai sulle parti fragili prendete sempre le parti metalliche qua sotto e qua sotto abbiamo i due travi quindi facciamo così scusatemi perché non riesco a inquadrare proprio tutto mentre giro è guardo che si è appoggiato sul tettuccio e ovviamente non sul vetro io sinceramente non l'avrei messo questo pezzo ma non riesco avrei messo un pluribor sotto e basta ma non riesco poi a farvi vedere bene l'intervento quindi un attimo solo che lo metto in sicurezza vedete prendo sempre dal trave così non va bene ancora no così sì bene ecco allora adesso io ho già preso una vite a m sono andato ad avvitar me la qui sono creato il filetto così poi devo rimuovere necessariamente la ruota anteriore destra e vi faccio vedere una cosa ecco perché vi dicono mettete le coperture controllatevi è molto importante che qui non ci sia ovviamente il disco posso anche toglierlo per farvi vedere un attimo quello che voglio farvi vedere che qui non ci sia assolutamente gioco se avete gioco su questi pezzi da una parte all'altra il problema è solo uno questa vite qui questa vite sotto e i braccetti dovete metterli a posto mi raccomando consiglio se avete un collante per metallo io uso un bicomponente epossidico grigio quello che vedete trasparente per plastica o legno io uso il grigio per il metallo però va bene un collante qualsiasi andate a bloccare di questa vite con il collante sotto se vedete che balla altrimenti non toccatela però è importante fare questo ecco perché vi ho detto prima non mettete i copriruote non mettete i tappi coprivite non metteteli se non siete sicuri di non dover più intervenire perché poi rovinate il modello adesso io sono andato anche a mettermi le due viti sm qui mi sono creato i filetti adesso le rimuovo per fare questa operazione vi faccio vedere una cosa prendete prima il cacciavite piccolo inserite un po la vite ok vabbè adesso non l'ho avvitato per non farvi vedere tutto comunque inserite un po la vite e poi lavorate con il cacciavite più lungo e più comodo bene adesso prendo il pezzo mi vado anche a svitare queste due viti che poi userò sono sempre queste sm per poi andarmi a mettere i para spruzzo il para spruzzo sono veramente belli questi particolari io sinceramente ho deciso subito di farne tre perché amo questa auto e poi ho un progetto in testa e una per un mio iscritto giovanni ciao giovanni e ci ho visto giusto perché avete visto è splendida quest'auto vado a mettermi la vite a m qui non stringo forte vado a mettermi le due viti sm da questa parte se vi creati filetti è un gioco da ragazzi montare quello che dovete poi montare metto il cacciavite lungo guardo sempre dove metto le mani sempre io tengo qui sul trave ovviamente non schiaccio il modello posso stringere anche qui non vi preoccupate se avete meno spazio qui meno luce qui e più qui da questa parte perché è normale anche sugli altri modelli che sto montando e così bene adesso ci rimane da mettere il para spruzzi così grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille non esagerate a stringere forte altrimenti la vite dilatterà la gomma e riesce fuori il para spruzzo bene ricordatevi di centrare con il segmento dentro lo scasso altrimenti la vite non monterà bene la ruota vedete non c'è alcun gioco non ci deve essere alcun gioco altrimenti non va bene guardate con che semplicità giro lo sterzo dopo che ho fatto l'intervento chi mi segue lo sa andate a vederlo all'interno dove c'è il finto soffietto che nella realtà è in gomma ma qui è in metallo bene adesso dobbiamo girare il modello dobbiamo insieme a voi eh mi raccomando datemi una mano quindi lo prendo da qui trave trave dietro e sono tranquillo ecco perfetto proviamo ricordatevi abbassate un po' la portiera perché c'è qui il gradino ecco qui perfetto che meraviglia sono soddisfatto di questo modello sono soddisfattissimo soddisfattissimo super soddisfatto io poi ho fatto un intervento qui ho eliminato gli adesivi e poi vi farò vedere un video ragazzi mi dispiace ma devo fare un video se riesco in abbonamento quattro spicci messi in croce perché a voi sicuramente non vi peserà nulla perché insomma la richiesta sarà veramente ridicola però a me serve sperando che tanti di voi decideranno di guardare quei video che metterò in abbonamento perché sono cose non indispensabili ma sicuramente vi servono per evitare che vi si stacchino gli adesivi perché diciamocelo chiaro e l'ho già detto non si dovrebbero dire le parolacce in un video però è un po' è veramente una porcheria questo adesivo che ci hanno dato avrebbero dovuto darci lo stesso identico adesivo che abbiamo applicato sulle portiere e allora eravamo tranquilli qui ci hanno dato un adesivo spessissimo che non potrà mai andare bene quindi sarebbe una cosa sicuramente giusta che la centauria si prendesse carico di riprodurre questi adesivi ma non solo nelle nuove edizioni che sicuramente lo farà ma già anche a noi perché anche noi abbiamo il diritto ad avere il modello come deve essere così come consiglio a Centauria ma sicuramente lo farà di non rifare più nella prossima edizione la Lancia Stratos con questa targhetta con l'adesivo sotto ma sicuramente con le viti così come ha fatto con la Audi 4 che è meravigliosa bene allora io aspetto come posso dire una risposta mi auguro senza fare il presuntuoso ma mi faccio portavoce per tutti voi affinché Centauria se vorrà darci la grafica per il radiocomando noi la gradiremo perché poi basterà fare un pezzo adesivo con la giusta grandezza e lo sanno del radiocomando e spedircelo in qualche uscita e poi rifare queste io ho risolto non si staccheranno mai più qui perché ho risolto però non tutti sono in grado di fare quello che ho fatto io purtroppo c'è gente che fa molto meglio di Michele e ci sono persone che non è giusto che debbano avere un modello dove non vanno a mettere la plastica perché si alza l'adesivo perché una volta che lo mettete in vetrina ragazzi d'estate vi fa la banana ve lo dico quindi ecco però il modello è con la scritta perché senza scritta non è quel modello che ha vinto il rally di Monte Carlo nel 1976 Roma deve esserci e quindi questo esorto la Centauria affinché ci possa mandare degli adesivi della stessa fattura di questi da applicare qua sopra perché è giusto così se li facessero avere anche nell'ultimo numero non ci interessa ma che ce li facessero avere sarebbe una cosa rispettosa corretta corretta e giusta per quello che merita prima di tutto il cliente e poi il modello perché il modello è veramente fatto bene non possiamo dire nulla qualche particolare andiamo a guardarlo per carità c'è chi lo rende per lui più gradevole andando a renderlo vissuto o andando a particolareggiare ancora di più dei particolari con dei ritocchi di vernice i finti dadi insomma ognuno del proprio modello fa quello che vuole ma queste cose qui ci dovete pensare voi Centauri non ci lasciate così mi raccomando perché sarebbe veramente un peccato grazie a tutti i ragazzi del vostro tempo un abbraccio a voi e un saluto un saluto a tutti i vostri cari più cari se avete piacere andate anche a vedere il video dell'Audi 4 che ha vinto il rally nel 1984 il rally di Monte Carlo con il pilota Walter Rohr e il suo copilota navigatore Christian e e detto questo che posso dirvi grazie sempre del vostro prezioso tempo ci vediamo al prossimo video ciao a tutti